La bella addormentata Eccolo Mila Sei famosa Sono a spuglio Per voi Questa è l'ultima C'è una fregatone e poi la luna Esploderà Sarò gli addirittori We are the check Per voi Questa settimana il bilancio finale La cosa più bella La cosa più bella Le riprese Le riprese L'acqua con lo zucchero Le riprese E il nascondino Bilancio Da 1 a 10 Questa esperienza 9 9 9 9 9 9 9 9 9 La telecamera è fra corsa Quindi faccio così E va l'auqua Vai Così non ci state Ok, così ci state tutti State fermi un secondo Aspetta non vedo Davide Ok Va bene Va bene Era ma registrazione Quindi è così Ok Davide è molto a camera Le registrano Azione Buongiorno Buongiorno Oggi sul telegiornale Ehm Di Tg Italia Guarderemo Un programma molto interessante Come si chiama Questo programma Si chiama Il tuo parrucchiere di fiducia Questo parrucchiere E' in grado di rimuoverti tutte le cose Ti prende così Fa così E poi ti fa il lavaggio Ti toglie un po' di capelli inutili Inutili E basta Ehm Bravo Bravo Grazie Nooo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.